Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code a tratti per traffico tra Aglio e Calenzano in direzione sud. In A11 ricordiamo che l'area di servizio Migliarino Sud verso Firenze è chiusa per lavori fino al 22 agosto. In FIPILI prudenza per pioggia tra la Strassigna e Montelupo, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la massima prudenza alla guida. Per il traffico urbano di Firenze possibili disagi per incidente segnalato in via Pistoiese e ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Prima di salutarci per la cantieristica sulla SP17 Alto Valdarno, senso unico alternato per cantieri all'altezza del chilometro 5,9 in località appoggio ai Giubbiani nel comune di Leggello fino a domani 6 agosto H24. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!